Più di 1.200 editori, oltre 2.000 trascrittori e pensatori contemporanei provenienti da tutto il mondo, 1.300 eventi in ben 63.000 metri quadri di spazi espositivi. Questi i numeri del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà all'ingottofiere dal 14 al 18 maggio. Il tema sarà altre forme di vita, due i paesi ospiti in questa trentatresima edizione, Irlanda e Canada, la Campania sarà la regione ospite. L'evento è stato presentato all'Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria alla presenza, tra gli altri, del Presidente e dell'Assessore Regionale alla Cultura della Regione Piemonte. Il Salone rappresenta infatti uno dei momenti di punta dell'attività culturale dell'ente regionale, che nel 2020 celebra due importanti ricorrenze, il 50esimo anniversario dell'istituzione della Regione Piemonte e il 15esimo dalla promulgazione dello Statuto Regionale. L'Arena Piemonte sarà il luogo delle attività promosse da Regione e Consiglio proprio in occasione di questo avvenimento. Confermata anche la presenza dei principali progetti legati alla promozione della lettura, come il concorso letterario nazionale Lingua Madre e il progetto Nati per leggere Piemonte, dedicato alla letteratura di infanzia. Per noi Nati per leggere Lingua Madre sono due progetti fondamentali, fondanti del Salone del Libro. Nati per leggere perché noi, come dire, istruzione, formazione, sin appunto studenti, futuri studenti, eccetera eccetera. Per noi questa è proprio una missione, cioè è proprio la battaglia della lettura con le nuove generazioni, è proprio una battaglia di civiltà, una battaglia di democrazia. Questi sono due grandi progetti che grazie appunto alla Regione Piemonte il Salone realizza. Quest'anno ritorna anche Buono da leggere l'iniziativa promossa dall'assessorato La Cultura del Piemonte per sostenere la promozione della lettura tra gli studenti. Verranno messi a disposizione dei ragazzi i 15.000 buoni del valore di 10 euro che potranno essere spesi al Salone presso gli stand degli editori che aderiranno l'iniziativa. La Regione inoltre rinnova anche il progetto IBF International Book Forum. Quest'anno sarà il Salto Ride Center, una nuova forma di collaborazione tra i mondi dell'editoria e del cinema.